A marzo 2019, 115 atleti azzurri rappresenteranno l'Italia da Abu Dhabi per i giochi olimplici di Special Olympics. Aderisci anche tu alla campagna Io Adotto un Campione e fate una bella donazione sul sito www.ioadottuncampione.it Ringrazio il mio amico Mario Biondi per aver pensato a me e nomino Rudy Zerbi e Cesare Cromonini. Ciao, mi raccomando eh!